La macchina? Chi è? C'è mia. Come ha fatto uno come te a comprarsi una macchina così? Come ha fatto? E' assa come che è. Eh, com'è? Eh, niente, sei tre anni che fa so rapine. La polizia di tutto il Veneto gli dà la caccia e lui cosa fare? Viene qui e in dieci minuti si porta via due quintali d'oro. Dai, cazzo, spara, cazzo, sto! Io ti faccio ammazzare, ti faccio ammazzare. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Volete dunque che Paolo riceva il battesimo nella fede della Chiesa? Che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Paolo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio. Quanto guadagni? Demo! Demo via tutti! Non lo prenderete mai! Spara, spara! Ma ti, ti hai fatto del male? Senti, persone, dimmi. Ma ti fa capire chi che sono diventato, mamma? Mi sono uno degli uomini più potenti d'Italia, più dei industriali, più dei ministri. Per ora, non lo prenderete mai. Grazie a tutti.